Si era conclusa ieri con la rottura delle trattative la riunione tra rappresentanze sindacali e proprietà della Buitoni, tenutasi nella sede romana di Confindustria. La Newlat non ritirerà le 32 procedure di licenziamento collettivo previsto per il sito produttivo Biturgenze e comunicata attraverso la raccomandata del 24 settembre scorso. I motivi sono stati ribaditi, flessione delle vendite a causa dell'attuale momento di crisi ed esigenza di migliorare l'efficienza produttiva interna per recuperare competitività. I sindacati, di fronte al muro degli amministratori delegati, hanno già dichiarato che procederanno con iniziative concordate con i sindacati nazionali, stato di agitazione con conseguente blocco delle prestazioni lavorative a regime di straordinario e di flessibilità. E per martedì prossimo, 9 ottobre, sono già in calendario le assemblee di fabbrica. La vicenda dello stabilimento di Sansepolcro è stata oggi al centro di una riunione convocata dalla provincia di Arezzo e alla quale hanno partecipato, oltre alla Regione e alle organizzazioni sindacali, Daniela Frullani e Riccardo Laferla, sindaci rispettivamente di Sansepolcro e Anghiari. La Regione e le istituzioni si sono dette disponibili ad incontrare l'azienda per chiedere nuovamente il ritiro delle procedure di mobilità. Le istituzioni si sono dunque schierate a fianco dei lavoratori, ribadendo la volontà di sostenere i sindacati con tutti gli strumenti disponibili nella prosecuzione della vertenza, con l'obiettivo di garantire i posti di lavoro e la permanenza di una così importante realtà produttiva sul territorio.